Il nuovo anno inizia con l'annuncio del Vice Sindaco Ugo Tozzi, Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, del potenziamento della videosorveglianza e quindi con maggiore ausilio per combattere la micro criminalità da parte delle forze dell'ordine. Questo sarà implementato con un sistema di videosorveglianza, infatti a fine anno abbiamo deliberato un nuovo sistema di videosorveglianza che andrà ad implementare il nuovo sistema, proprio per andare incontro alla sicurezza del cittadino che pure è lamentata non solo in queste città ma altrove e soprattutto per i fenomeni di immigrazione, sono tanti fenomeni che si registrano in tutta Italia e quindi è un servizio che noi vogliamo dare al cittadino. Quindi non per punire colui il quale se mai sporca la città ma per fargli capire che non deve sporcarla perché sporca l'ambiente ed è un problema appunto collettivo. Questo vale sia per le micro discariche di cui tanto se ne è parlato soprattutto nel periodo estivo sia soprattutto lo andremo a fare per individuare anche sul problema dei furti le entrate ed uscita della città che saranno videosorvegliate e questo è già stato fatto grazie al decreto Minniti in collaborazione con le forze dell'ordine. Quindi ringrazio la dottoressa Concia e il comandante Fasolino che ci sono resi disponibili per affrontare questo problema di sicurezza appunto in città.